Dopo molte sollecitazioni da parte dei cittadini rosetani sul parte urbana, sul degrade urbano nelle zone periferiche del territorio è arrivata ora la risposta, risposta secca di Casa Civica e del Consigliere Mario Nugnes. Sì, grazie appunto alle molteplici segnalazioni e anche grazie a un vasto gruppo di lavoro, ringrazio su tutti la segretaria Gabriella Recchiuti e il nostro membro storico di Casa Civica, il dottor Gianni Mazzocchetti, il commercialista Gianni Mazzocchetti perché mettersi in ascolto significa appunto segnalare per poi avere delle soluzioni immediate. Partiamo da due aspetti concreti, la Pineta Savini che è un luogo di aggregazione, un luogo di incontro di famiglie per bambini lasciata un po' l'abbandono nel degrado con anche resti poco piacevoli sia organici che appunto di persone che hanno qualche problema e quindi in questo caso annunciamo che se non si renderà l'amministrazione operativa immediatamente faremo subito una mozione per questa come per altri luoghi di aggregazione. Per poi spostarci in un posto diametralmente opposto rispetto al nostro comune che è la frazione di San Giovanni per citarne una su tutte che da anni con diverse segnalazioni di cittadini con articoli di giornale reclama un abbandono nella manutenzione. Basta vedere l'ingresso, le arterie che si innestano sulla 150 che con la vegetazione che non viene tagliata da tempo rendono difficile l'immissione e quindi pericolosa piuttosto che nelle zone verdi che ci sono all'interno della frazione stessa fino ad arrivare all'impianto polivalente che però sarà argomento di una futura mozione. Tutto questo per dire che noi bisogna mettersi in ascolto della popolazione ma al tempo stesso incalzare l'amministrazione perché non si può più rimandare, non si può più aspettare. Esempio concreto, mozione ritirata sul divieto di fumo nei parchi pubblici. Noi la ritirammo responsabilmente perché dicemmo l'amministrazione dovrà lavorarci per poi votarla all'unanimità. Che cosa è stato fatto a distanza di due mesi? Qui si rimanda sempre, si dice si farà, settembre è arrivato, bisognava fare tantissime altre cose sulle quali usciremo nei prossimi giorni. Questa amministrazione è rimasta un po' al palo. Grazie a tutti.